No, io poco, poco, ce l'ha il mio figlio su, ma... Ce l'ha il tuo figlio? Si, lui ce l'ha, si Allora, ci si metto il presepe Le casine le ho fatte con delle scatole di frutta, della frutta Con le scatole della frutta la fatte? Eh Allora Sai cos'è, è venuto bene il cazzolai Il cazzolai è perfetto E' dura, eh Questo lì ci può far cosa di fare Logicamente la ripresa non sarà perfetta Sì, è valido vedo Ma è valido, va bene bene Allora vado a vedere, prima lo sfaccia Prima lo sfaccia, va da vedere questo presepe Vi è l'allora vado a vedere questo presepe Grazie a tutti Grazie a tutti.